In base all'attuale numero di bambini cattivi registrati, questa unità non dispone di giardini sufficienti. Oh, oh, oh! Buone feste e... caricamento! Felice anno nuovo! Recupero regali, caricamento e soltanza, scompassamento super routine di buone feste, completato. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Rapporto di errore. Questa unità ha provato ad addobbare... Oh, oh, oh! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.